Bella a tutti ragazzi sono FactorMode Oggi sono qui per giocare su Bok Come sempre Bok è la mia amata Mappa Per giocare con sniping Giocherò penso col Barret Proviamo col Barret Poi dopo vediamo di cambiarlo al massimo Adesso la partita Eee Sono i compagni di Dave che purtroppo E contro di me Lo ucciderò mille volte Adesso vediamo Buona partita Adò Che pompier Uhhh Axon Axon le dovrò uccidermi in 60.000 Aumento il mio armadio Dio Aumento il mio armadio Uhhh Aumento il mio armadio Uhhh Avvenuto il mio armadio Aiaiaiaiaiaiai Ajox mi staggia sulle palle Dai levati dai Guardalo uomo No 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 Libro oh sai 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 non carica non carica non carica ma vaffanbana e dai gli spireti che non mi fanno più vedere niente cazzo no è entrato ma vaffanbana purgudia addos E' stelicot... Questa si sta laggando... Buon metterò l'elicottero... Prendiamolo sull'elicottero, quindi ho pensato che era nemico. Prendiamo B. B sotto controllo. Rai d'aereo alleato in arrivo. Guavi nemico in volo. Rai d'aereo alleato in arrivo. Prendiamo B. Prendiamo B. Rai di B. Rai di B. che camper brian mamma mia brian sta per morire brian lo morto e la madonna ma che cazzo sono gli unicotteri mi uccidono eh cazzo lo pare una figa ma va prendiamo B sua vita ricognizione in attesa elicottero nemico in avvicinamento prendiamo Charlie Charlie sotto controllo perdiamo Alpha sta per evitato abbiamo perso Alpha bella tutti ragazzi bella partita diciamo niente di che 43-38 il risultato potevo fare di meglio si poteva fare di meglio abbiamo beccato solo camper praticamente perchè erano uno e erano sul bus Axos, Biners era sempre sul bus scherzi c'è capo ovviamente guarda lasciamo perdere non mi esprimo e niente il resto boh andavano ormai giocavano se la giocavano andavano in giro infatti sono quelli che ho tirato di più beh se niente bella ragazzi un saluto da Factor Mode mi raccomando cliccate subscribe e e e e e e e